Musica Si stringe sempre di più il rapporto tra Prix e il territorio del Triveneto, dove l'azienda, al 100% italiana, ha già 190 punti vendita e ora si sta espandendo anche in Lombardia ed Emilia. Una presenza che oggi si arricchisce di un nuovo supermercato inaugurato a Castello di Godego. Lo slogan è chiaro, da noi si mangia bene. Il nostro slogan è da noi si mangia bene perché il titolare Gianni Foster diceva ma alla fine noi abbiamo tutti i prodotti buoni, è giusto che andiamo a dirlo. Mi sono permesso di dire sì Gianni, però magari se aggiungiamo anche risparmiate sereni perché alle prime inaugurazioni vedevo che la gente era talmente sorpresa lo scontrino finale quando faceva la spesa dice ma speriamo bene e allora ho detto no. Diciamo state tranquilli, i nostri prodotti non solo costano poco ma soprattutto sono molto buoni. Fondamentale anche il legame con il territorio sia come servizio che come sostegno all'economia e all'occupazione. Buona l'assessibilità della proprietà della Prix che ha deciso già di donare dei buoni spesa a tre realtà del paese molto riconosciute. Altri punti di forza dell'azienda sono la spesa facile e veloce grazie alla dimensione media dei punti vendita, quasi dei negozi di vicinato e poi il reparto frutta e verdura con i colori, la freschezza e la qualità dei prodotti che l'azienda cerca tra le produzioni venete. Prix rafforza il legame con il territorio anche sostenendo iniziative locali che nel 2022 sono state oltre 500. Ecco perché Prix in questa occasione ha donato 3000 euro in buoni spesa alle associazioni locali e un quintale di crocchette per gatti all'empa di Treviso. Siamo molto felici di ricevere questa donazione, specie in questo periodo dove i gatti sono talmente tanti da gestire che un piccolo aiuto serve tantissimo per aiutare sia i cittadini che noi che raccogliamo appunto i gatti per strada. Sicuramente lo usiamo a dare a qualche bisognoso che all'interno del paese purtroppo nel periodo in cui viviamo c'è sicuramente bisogno. Non abbiamo ancora individuato però insomma ci programmiamo per poterlo fare. Daremo a delle famiglie bisognose e poi vedremo cosa fare. Ho già calcolato una decina di persone per dare il buono. Un'inziativa molto utile, ti ringrazio a nome di tutto il comitato, la Prix per questa donazione e sicuramente da parte nostra sarà un passaggio a chi effettivamente ha bisogno. Prezzi bassi, promozioni ma anche una particolare attenzione alle famiglie colpite dai rincari di questi mesi. Aumentano le bollette, aumentano i costi e allora proprio per questo abbiamo fatto una promozione per venire incontro ai nostri clienti. Quindi se vieni a fare la spesa da noi dal lunedì al venerdì hai un buono sconto di 5 euro che puoi utilizzare il salto la domenica.